l'eroe del giorno della settimana luca cardona insieme all'altro luca si diciamo che io comunque come sempre cerco di tenermi pronto per ogni evidenza infatti l'altra volta sono stato contento che max mi abbia dato l'opportunità di giocare di far vedere quanto valgo insieme anche a luca capello e infatti sono molto contento di questo se ti scherzi a parte ma papà maicon ti seguono se mi segue mi se ci sentiamo e ogni volta che do consigli che consigli tecnici e anche riguardo la persona allo sportivo e a cose di questo genere ma lui era uno tra i migliori centrali tu a muro come un po da miglioraggio ancora se quello di sicuro diciamo che cerchiamo di arrivare su livelli ecco benissimo senti adesso invece si va a portoviro una partita assolutamente complicata perché portoviro è una squadra molto interessante che è finora ha avuto come voi poco dalla classifica però insomma bisogna fare molta attenzione se quello è sicuro infatti stiamo cercando di migliorare le ultime cose e non solo questa ma ci stiamo preparando alle prossime partite a quelle di vivo santa croce ea quelle seguenti per tenerci un po sul sulla piazzamento alto della classifica si calendario chiaramente adesso diventa ancora più complicato ma insomma in questo campionato non c'è nulla di semplice però una partita alla volta immagino vi abbia detto il vostro allenatore no si assolutamente passo dopo passo dobbiamo vedere le partite che vinciamo dobbiamo assimilarle vedere cosa abbiamo fatto bene cosa non abbiamo fatto bene così da migliorare sempre di più nel corso della stagione come è andata questa o come sta andando questa settimana dell'allenamento stiamo andando bene stiamo ancora migliorando come detto prima le ultime cose ma stiamo andando bene piano piano tu sei pronto sì io sono sempre pronto